Cercare di capire quel che accadrà nei prossimi mesi dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea è un esercizio molto difficile. La Brexit preoccupa gli industriali comaschi. A parlare dei possibili effetti sull'economia lariana è Gianluca Brenna, vicepresidente di un'industria comoda. I mercati, spiega l'industriale, stanno cercando ancora di prezzare questa nuova situazione e pur nella violenza della reazione immediata la direzione sembra chiara, la sterlina scende rendendo meno competitive le nostre produzioni. Perciò avremo difficoltà nelle esportazioni. Londra, prosegue Brenna, è sede di quartieri generali di moltissime multinazionali, chissà se si sposteranno. Il Regno Unito è per noi un buon cliente, il mercato londinese è ricco, con consumatori con un buon potere d'acquisto. Osserveremo gli effetti di questa decisione degli inglesi.